Ben Hayden era sempre stato un tipo ostinato e quando venne a sapere delle misteriose statue che si trovavano nella parte superiore dei monti ad Irondeik niente potei trattenerlo dall'andarle a vedere. Da anni ero stato il suo amico più stretto e il nostro rapporto alla Damone e Pizia ci rendeva inseparabili. Così quando Benny decise di partire beh dovetti seguirlo come un colli fedele. Jack mi disse conosci Harry Jackson quel tale che è andato a stare in una capanna oltre Lake Placid per via di una brutta malattia ai polmoni. Beh è tornato l'altro giorno quasi guarito ma aveva parecchie cose da raccontare su fatti incredibili che capitano lassù. Ha cominciato a parlarmele all'improvviso e per il momento non posso essere sicuro che non si tratti soltanto di bizzarre sculture ma la sua inquietudine mi ha contagiato. Pare che un giorno sia andato a caccia e abbia scoperto una caverna con davanti quello che sembrava un cane. Proprio quando si aspettava di sentirlo abbaiare da un momento all'altro si è reso conto che l'animale non era vivo. Era un cane di pietra ma così perfetto fin nei minimi particolari che Harry non è riuscito a decidere se fosse una statua incredibilmente ben fatta o un animale pietrificato. Aveva quasi paura di toccarlo ma alla fine ha vinto l'esitazione e si è accorto che era proprio di pietra. Dopo un po' si è fatto coraggio ed è entrato nella caverna dove lo aspettava una sorpresa anche più grande. Appena avvarcata la soglia c'era un'altra statua di pietra o almeno lo sembrava ma stavolta si trattava di un uomo. Era steso sul pavimento di fianco con degli abiti indosso e uno strano sorriso. Harry non ha osato a toccarlo ed è corso dritto al villaggio che si chiama Montaintop. Naturalmente ha cominciato a fare domande ma non l'hanno portato lontano. Si è reso conto che l'argomento era tabù e la gente del posto scuoteva la testa, incrociava le dita e borbottava a qualcosa a proposito di un certo Dan, il pazzo, senza specificare chi fosse. Per Jackson era troppo, così è tornato a casa qualche settimana prima del previsto. A me ha raccontato tutto perché sa quanto mi interessano i fatti misteriosi e il caso abbastanza strano sono riuscito a ricordare qualcosa che concorda alla perfezione col suo racconto. Ti ricordi di Arthur Wehler, lo scultore realista che la gente ormai considerava una specie di fotografo della pietra. Ebbene, anche lui si è ritirato in quella parte degli Adirondeic. Ci ha passato un po' di tempo, quindi è sparito dalla circolazione e nessuno ne ha più sentito parlare. Ora, se da quelle parti si scoprono statue di pietra che sembrano la copia perfetta di uomini e animali, io penso che sia un'opera sua che che ne dicano o rifiutano di dire i villici del posto. È ovvio che un ragazzo nervoso come Jackson si impressioni facilmente e voli di fantasia in un caso come questo, ma prima di battervela io avrei fatto altre ricerche. Anzi, Jack, sto per andare lassù adesso e tu verrai con me. Trovare Wehler o qualcuna delle sue statue sarebbe molto importante e in ogni caso l'aria di montagna ci farà bene. Così, meno di una settimana più tardi, dopo un lungo viaggio in treno e una traballante corsa in autobus attraverso un paesaggio stupendo, arrivamo a Mountain Top nell'ultima luce di una dorata sera di giugno. Il villaggio era composto di poche case, un albergo e l'emporio davanti al quale l'autobus fermò. Sapevamo che quello probabilmente era il luogo dove si raccoglievano le informazioni di cui eravamo in cerca. Intorno ai giardini era raccolto il solito gruppetto di sfaccendati e quando ci presentammo come due viaggiatori che avevano bisogno di aria di montagna per curarsi e che cercavano alloggio, ci vennero dati consigli di ogni sorta. Benché non prevedessimo di cominciare le indagini prima del giorno dopo, Ben notò che uno dei per di giorno più vecchi e laceri era un tipo abbastanza loquace e non resiste dal fargli qualche cauta domanda. L'esperienza di Jackson gli aveva insegnato che sarebbe stato inutile cominciare con riferimenti diretti alle misteriose statue, ma decise che il nome di Veler poteva essere fatto senz'altro. Dopotutto si trattava di un conoscente alla cui sorte egli aveva tutto il diritto di interessarsi. Quando il vecchio Sam smise di borbottare e cominciò a parlare sul serio, la folla sembrò vagamente a disagio, ma non aveva motivo di allarmarsi. Persino l'uomo scalzo e cadente che ci stava davanti si era irrigidito un poco al nome di Veler e solo con difficoltà Ben riuscì a cavargli qualcosa di concreto. Veler aveva cominciato il vecchio in tono sibilante. Ah sì, quello che faceva esplodere i blocchi di roccia e poi li scolpiva in statue. Così lo conoscevate, eh? Beh, non possiamo dirvi molto, ma forse è già troppo. Abitava nella capanna di Dan il pazzo, sulle montagne, ma non c'è rimasto a lungo. Ha avuto quello che si meritava e ha preferito non fare il bis. Ha profetuto Dan, se mi capita. Veler era una specie di damerino e ha cominciato a tener dietro alla moglie di Dan finché il vecchio diavolo se n'è accorto. Faceva il cascamorto con lei, ma ha dovuto battersela subito e da allora nessuno ha più visto il suo pelo o la sua tana. Dan gli deve aver detto in faccia quello che l'aspettava. Guai a mettersi contro uno come lui. Anzi, ragazzi, la cosa migliore è stargli alla larga, perché da quella parte delle montagne non c'è niente di buono. Il carattere di Dan è peggiorato parecchio. Ormai non si fa più vedere. Nemmeno sua moglie, se è per questo. Devi averla rinchiusa a lui da qualche parte, in modo che nessuno possa metterci gli occhi addosso. Mentre Sam, dopo qualche altra osservazione, riprendeva i suoi borbotti incoerenti, ben e io ti scambiamo un'occhiata. Ecco un'altra trazza che meritava di essere seguita con cura. Decidemmo di alloggiare all'hotel e ci sistemammo il più rapidamente possibile. Il giorno dopo avremmo fatto una prima esplorazione della regione selvaggia fra le montagne. Partimmo all'alba, ognuno con uno zaino carico di provviste attrezzi che avrebbero potuto servirci. Il giorno si prospettava invitante e quasi avventuroso, anche se in definitiva accadde solo qualcosa di vagamente sinistro. La strada di montagna si fece ben presto, ripida e tortuosa. I piedi ci facevano male parecchio. Dopo circa tre chilometri e mezzo lasciammo il sentiero. Scavalcammo il muretto di pietra sulla destra vicino a un grande olmo e ci avviammo in diagonale verso un pendio più ripido. Seguivamo la cartina e le istruzioni che ci aveva dato Jackson. Fu una camminata scomoda e faticosa, ma sapevamo che la caverna non poteva essere lontana. La trovammo all'improvviso. Una bocca nera e circondata di cespugli, dove il terreno saliva tutto d'un tratto. Di accanto ad essa, presso una polla di montagna poco profonda, vedemmo una figura immobile e rigida, che pareva sfidare la sua innaturale pietrificazione. Era un cane, o la statua di un cane. E quando l'eco delle nostre esclamazioni si spense, ancora non riuscivamo a raccapezzarci. Jackson non aveva affatto esagerato e non potevamo credere che la mano di uno scultore avesse creato una tale perfezione. Ogni pelo del manto stupendo sembrava unico rispetto a tutti gli altri e quelli sulla schiena erano dritti come se l'ignoto avesse colto l'animale alla sprovvista. Ben, che stava quasi per accarezzare la delicata peluria di pietra, esclamò. Buon Dio Jack, ma questa non può essere una statua. Guarda i piccoli dettagli, il modo in cui è disposto il pelo. Qui non c'entra la tecnica di Wehler. È un cane autentico. Dio solo sa come si è ridotto in questo stato. E sembra proprio pietra. Prova a sentire. Pensi che ci sia un gas misterioso che ogni tanto esce dalla caverna e riduce gli animali in questo stato. Avremmo dovuto approfondire le leggende locali. Se questo è un cane autentico lo era, deve esserlo anche l'uomo che si trova nella grotta. Con rispetto e quasi con paura strisciammo carponi nell'imboccatura della caverna. Ben mi precedeva. Il cunicolo d'ingresso non sarà stato più largo di un metro. Dopodiché la grotta si ampliava in un ambiente umido in penombra, il cui pavimento era coperto di sassi e detriti. Per un po' riuscimmo a vedere molto poco, ma alzandoci in piedi e guzzando gli occhi distinguemmo una sagoma coricata sullo sfondo del buio più fitto dinanzi a noi. Ben agitò la torcia elettrica, ma esitò a puntarla sulla sagoma prostrata. Avevamo pochi dubbi che la figura di Pietra fosse stata un uomo vivo e in quell'idea c'era qualcosa che ci innervosiva. Quando Ben si decise finalmente a proiettare il fascio sul corpo coricato, vedemmo che era steso di fianco e che ci dava la schiena. Era fatto della stessa sostanza del cane, ma indossava i brandelli ammuffiti e non pietrificati di un abbigliamento più o meno sportivo. Pronti come eravamo a subire uno shock, ci avvicinammo al corpo con una certa calma e Ben gli girò intorno per vedere la faccia. Niente avrebbe potuto prepararsi a ciò che Ben vide quando proiettò il raggio della torcia sui lineamenti di Pietra. L'urlo che gli sfuggì è del tutto comprensibile e quando andai al suo fianco e vidi a mia volta non potei fare a meno di ripeterlo. Ma nello spettacolo in sé non c'era nulla di orribile o terrificante. Fu un semplice riconoscimento, perché al di là di ogni ragionevole dubbio il freddo corpo di Pietra dall'espressione per metà sorpresa e metà terrorizzata era quello del nostro vecchio conoscente, Arthur Wehler. Fu l'istinto a guidarci carponi fuori della caverna e in fondo al pendio irte di vegetazione in un punto dal quale non si vedeva i cane. Non sapevamo cosa pensare, perché la nostra mente turbinava di congetture e preoccupazioni. Ben che conosceva Wehler meglio di me era particolarmente sconvolto e sembrava che cercasse di mettere insieme alcuni fatti sparsi che a me erano sfuggiti. Mentre facevamo una pausa sul pendio verdeggiante, Ben ripetì più di una volta. Povero Arthur, povero Arthur. Tuttavia solo quando sussurrò il nome Daniel Pazzo, ricordai i guai in cui stando al vecchio Sam Poole, Wehler era incappato poco prima di sparire. Daniel Pazzo, rifletteva Ben, sarebbe stato contento di sapere quello che era successo. Per un attimo pensammo che il marito geloso fosse il vero responsabile della fine dello scultore nell'orrida caverna, ma quell'idea si dileguò rapidamente. La cosa che ci lasciava maggiormente perplessi era il fenomeno di pietrificazione. Quale emanazione gassosa o vapore minerale poteva aver compiuto la trasformazione in un tempo così breve? La risposta era al di là della nostra portata. La pietrificazione naturale, come sappiamo, è un lento processo chimico di sostituzione che richiede tempi lunghissimi. Eppure qui avevamo due creature di pietra che solo poche settimane prima erano stati esseri viventi. Perlomeno Wehler lo era stato. Ma era inutile far congetture. Non ci restava altro che avvertire le autorità e lasciare che fossero loro a trarre eventuali conclusioni. Nonostante questo, in fondo alla mente di Ben rimaneva il pensiero di Dan il pazzo. Tornammo faticosamente al sentiero, ma Ben non prese la direzione del villaggio, anzi guardò verso l'alto dove il vecchio Sam aveva detto che si trovava la capanna di Dan. Era la seconda casa dopo i confini del paese, come ci aveva spiegato il vecchio Sibilando, e si trovava lontano dalla strada, sulla sinistra, in un fitto boschetto di querce nane. Prima che me ne rendessi conto, Ben mi guidò sul sentiero sabbioso che portava verso l'alto e che superata una fattoria sgangherata, si inoltrava in una regione sempre più selvaggia. Non pensai affatto a ribellarmi, eppure, man mano che i segni familiari dell'agricoltura e della civiltà si facevano sempre più rari, avvertì un'atmosfera di crescente pericolo. Finalmente, sulla sinistra si aprì un sentiero angusto e dimenticato, e oltre un boschetto di alberi malati o moribondi apparve il tetto appuntito di una casa squallida, nemmeno dipinta. Questa, come sapevo, doveva essere la capanna di Daniel Pazzo, e mi meravigliai che Veller avesse deciso di abitare in un edificio così ripugnante. Non mi andava affatto di inoltrarmi in quel sentiero coperto di erbacce e per nulla invitante, ma non potevo restare indietro mentre Ben avanzava deciso e bussava con forza alla porta scardinata che puzzava di muffa. Nessuno rispose, e l'eco dei colpi mi fecerà brividire. Ben al contrario non era turbato, e cominciò immediatamente un giro di spezione intorno alla casa per trovare una finestra aperta. Da terza, sul retro della capanna faticente, si rivelò accostata, e dopo una spinta ai vetri e un salto vigoroso, Ben arrivò all'interno, dopodiché mi diede una mano. La stanza in cui ci trovavamo era piena di blocchi di pietra e granito, attrezzi da scultore e modelli di creta, e in un attimo ci rendemmo conto che si trattava dell'ex studio di Veller. Finora non avevamo incontrato segni di vita, ma su tutto aleggiava uno spiacevolissimo odore di vecchio. Alla nostra sinistra c'era una porta aperta, che evidentemente metteva in una cucina sul lato della casa dove era la canna fumaria, e ben cominciò la sua spezione da lì per cercare ogni possibile indizio sull'ultima abitazione dell'amico. Quando attraversò la soglia della cucina era parecchi metri davanti a me, e quindi non potei vedere la cosa che lo fece bloccare, e gli strappò un grido d'orrore. Ma un attimo dopo vide anch'io, ed è che già il suo grido, come avevo fatto istintivamente nella caverna. Anche nella capanna, ben lontane da eventuali cavità del sottosuolo, esprisionossero gas misteriosi e attuassero prodigiose metamorfosi, c'erano due figure di pietra, che mi resi conto immediatamente non erano state fatte dallo scalpello di Arthur Veller. In una rozza poltrona sistemata davanti al camino e legato col laccio di una lunga frusta di cuoio, c'era la forma di un uomo, sciatto, vecchio, con uno sguardo di orrore indescrivibile sul volto maligno e pietrificato. Sul pavimento accanto all'uomo giaceva la figura di una donna, graziosa, e con lineamenti che esprimevano una notevole bellezza e gioventù. L'espressione del volto era di un sardonico compiacimento, e vicino alla mano destra protesa c'era un gran secchio di latta, macchiato all'interno da un sedimento brunastro. Non tentammo di avvicinarci agli inspiegabili corpi pietrificati, e ci scambiammo solo le più semplici congetture. Non c'era dubbio che la coppia fosse danni il pazzo e sua moglie, ma che cosa li avesse ridotti in quello stato? Era un'altra faccenda. Guardandoci intorno, inorriditi, si accorgemmo che la fine doveva essere giunta bruscamente. A parte uno spesso strato di polvere, infatti, la scena pareva essersi interrotta nel bel mezzo delle normali attività casalinghe. La sola eccezione alla normalità della scena era sul tavolo di cucina, al centro del quale, come per attirare l'attenzione, si trovava un quaderno sottile, sciupato e tenuto aperto da un grosso imbuto di stagno. Ben attraversò la stanza per vedere di che si trattasse e scoprì un diario o insieme di annotazioni datate, scritte con grafia contorta e una mano non troppo allenata. Le prime parole attrassero la mia attenzione e nel giro di dieci secondi Ben era totalmente immerso nel faticoso manoscritto. Io leggevo accanto a lui e per farlo meglio ci trasferimmo nella stanza accanto, la cui atmosfera era senz'altro meno agghiacciante. Durante la lettura molte cose diventarono terribilmente chiare e un insieme di complesse emozioni ci fece tremare. Qui di seguito è riportato ciò che leggemmo e che poi sottoponemmo al coroner. Nei giornali popolari il pubblico ha trovato una versione sensazionale dei fatti, ma anche quella contiene solo una frazione dell'autentico terrore che ci ispirò al diario originale nella sua semplicità. Il diario che leggemmo nella capagna faticente fra le montagne selvagge con due mostruose anomalie di pietra a pochi passi da noi nel silenzio mortale della stanza accanto. Quando finimmo di leggere Ben intascò il diario con un gesto che per metà era di repulsione e le sue prime parole furono «Andiamo via di qui!». In silenzio nervosamente barcollammo verso la parte anteriore della casa. Aprimmo la porta e cominciammo la lunga discesa verso il villaggio. Nei giorni seguenti dovemmo rilasciare parecchie testimonianze e rispondere a una serie di domande e non credo che Ben e io potremmo mai scuoterci di dosso gli effetti di quella terribile esperienza. Lo stesso vale per le autorità locali e i giornalisti arrivati dalla città che cominciarono a sciamare nella zona. E a poco è servito che abbiano bruciato un certo libro e numerose carte trovate nelle casse della soffitta o che abbiano distrutto le apparecchiature scoperte nella parte più profonda della sinistra caverna sulla montagna. Ma ecco il testo. 5 novembre. Mi chiamo Daniel Morris. Nei paraggi mi chiamano Dan il pazzo perché credo in potenze a cui nessuno presta fede al giorno d'oggi. Quando salgo sulla montagna del tuono per celebrare la festa delle volpi pensano che sia pazzo. Tutti meno i contadini più arretrati che mi temono. Cercano di impedirmi il sacrificio del capro nero la vigilia ad ogni santi e sempre mi proibiscono di portare a termine il grande rito che aprirebbe la soglia. Ma dovrebbero sapere che è tutto inutile perché da parte di madre discendo da Ivan Kauran e chiunque al di qua dello Hudson sa di che cosa è stata capace la famiglia. Discendiamo da Nicholas van Kauran il mago impiccato a Vigigart nel 1587 ed è risaputo che aveva fatto un patto con l'uomo nero. Quando i soldati bruciarono la casa di Nicholas non trovarono la sua copia del libro di Eibon. La portò con sé il nipote William quando si trasferì a Rensen Lerwick e più tardi quando attraversò il fiume per stabilirsi a Esopus. Chiedete a chiunque, a Kingston o a Harley, di cosa erano capaci William van Kauran e i suoi discendenti contro chi si mettesse sulla loro strada. Chiedete se mio zio Hendrick non riuscì a conservare il libro di Eibon quando lo cazzarono dalla città e risalì il fiume per stabilirsi qui con tutta la famiglia. Scrivo tutto questo e continuerò a farlo perché voglio che la gente sappia la verità quando non ci sarò più. Inoltre temo di diventare pazzo sul serio se non metto questa faccenda nero su bianco. Tutto congiura contro di me e se continua di questo passo dovrò usare i segreti del libro e invocare certe potenze. Tre mesi fa lo scultore Arthur Wehler arrivò a Mountaintop e lo mandarono da me perché in paese sono l'unico che sappia qualcosa al di fuori della cazza, della semina e di come si pelano i turisti d'estate. Quel tale sembrava interessato ai miei argomenti e ci mettemmo d'accordo per 13 dollari la settimana, vitto e alloggio. Gli dè di la stanza vicino alla cucina e là sistemò i blocchi di pietra e gli attrezzi da scultore. Poi si accordò con Nate Williams che doveva organizzare l'esplosione sulla montagna e trasportare i blocchi di pietra fino a casa con un carro e un tiro di buoi. Questo avveniva tre mesi fa. Adesso so perché quel maledetto figlio del demonio prese la stanza così in fretta. Non erano affatto le mie chiacchiere a interessarlo. Era mia moglie Rose, la figlia maggiore di Osborne Chandler. Ha 16 anni meno di me e fa sempre gli occhi dolci ai ragazzi del paese. Ma fino all'arrivo di quel porco eravamo sempre riusciti a tirare avanti, anche se lei non ha mai voluto aiutarmi nei riti del 3 maggio e del primo novembre. Me ne accorgo ora che Veler se la sta lavorando. L'ha fatta innamorare di sé al punto che Rose non mi guarda nemmeno. Penso che prima o poi cercheranno di scappare insieme. Ma lui ci va piano come tutte le carogne veramente astute e rifinite. Ho molto tempo per pensare al mio piano. Nessuno dei due sospetta che mi sono accorto di qualcosa ma non passerà molto prima che si accorgono quanto è poco consigliabile infangare l'ospitalità di un Van Kaoran. Avranno di che divertirsi. 25 novembre. Il giorno del ringraziamento. Una coincidenza proprio azzeccata. Alla fine sarò contento di ciò che ho cominciato. Non c'è dubbio che Veler stia cercando di portarmi via la moglie. Per il momento comunque lo lascio ancora illudere di essere il mio caro pensionante. La scorsa settimana ho preso il libro di Eibon nel vecchio baule di zio Hendrick e sto cercando qualcosa che non richieda sacrifici. Impossibili da fare in queste circostanze. Voglio qualcosa che faccia morire quei due traditori e che allo stesso tempo non mi procuri noie. E se c'è un pizzico di melodramma tanto meglio. Ho pensato di evocare l'emanazione di Yot ma per quella occorre il sangue di un bambino e devo stare attento con i compaesani. La lebra verde sembra interessante ma rischierei di avere anch'io qualche seccatura. Non sopporto certi spettacoli e certi odori. 10 dicembre. Eureka! Finalmente ho scoperto quello che fa per me. La vendetta è dolce e questa è perfetta. Weller, uno scultore no? È troppo bello. Quel maledetto traditore farà una statua che si potrà vendere più facilmente di tutte quelle che ha scolpito nelle ultime settimane. Un realista eh? Bene. Bene. Al nuovo capolavoro il realismo non mancherà di certo. Ho trovato la formula in un manoscritto inserito a fronte della pagina 679 del libro. Nalla grafia giudico che sia opera del bisnonno, Baroitte Bichters van Kauran, quello che scomparve dalla New Platz nel 1839. Ya! Shubnigurra! Il capo dai mille cuccioli. Per essere chiari, ho trovato il modo di trasformare in pietra i due bastardi. È di una facilità assurda e il processo dipende più dalla chimica che da forze esterne. Se riuscirò a procurarmi le sostanze adatte, sarò in grado di distillare quello che sembrerà un vino fatto in casa. Ma ne basterà un bicchiere per liquidare qualunque essere vivente più piccolo di un elefante. Si tratta di un processo di pietrificazione enormemente accelerato. Invade il sistema corporeo con sali di calcio e bario, sostituendo le cellule viventi col minerale. E tutto a una velocità tale che niente può fermarlo. Deve essere uno dei segreti che il bisnonno apprese a Grand Sabba di Sugarloaf sui monti Catskill. Succedevano strane cose laggiù. Mi sembra di aver sentito parlare di un uomo trasformato in pietra a New Platz nel 1834. Si chiamava Messer Hasbrook ed era un nemico dei Van Cauran. La prima cosa che devo fare è ordinare le cinque sostanze chimiche di cui ho bisogno ad Albani e a Montreal. In seguito avrò tutto il tempo per fare i miei esperimenti. Quando ogni cosa sarà finita, imballerò le statue e le venderò come opere di Wehler per ripagarmi della pigione arretrata. È sempre stato un realista e un egocentrico quel Wehler. Non sarebbe normale che decidesse di fare una statua a se stesso e di usare mia moglie come modella, cosa che effettivamente ha fatto negli ultimi 14 giorni. Scommetto che il pubblico imbecille non scoprirà mai da quale cava è stato tratto il materiale. 25 dicembre, Natale. Pace in terra, eccetera eccetera. Quei due porci tubano come se io nemmeno non esistessi. Devono pensare che sia cieco, sordo e muto. Bene, il solfato di bario e il cloruro di calcio sono arrivati giovedì scorso da Albani e gli acidi, i catalizzatori e le apparecchiature che ho ordinato a Montreal arriveranno da un momento all'altro. I mulini degli dèi, come no? Farò il lavoro nella caverna di Allen, vicino al bosco qui sotto, e nello stesso tempo preparerò del vino in cantina in modo che non mi vedano. Dovrò trovare una scusa per offrire loro la bevanda, ma non ci vorrà molto a ingannare quei rimbecilliti. Il problema sarà convincere Rose a bere il vino perché a lei non piace. Eseguirò tutti gli esperimenti con gli animali della caverna. Un posto dove d'inverno nessuno pensa di andare. Taglierò della legna per giustificare la mia assenza. Un piccolo carico o due basteranno a spegnere i sospetti di Veler. 20 gennaio. È un lavoro più arduo di quanto avessi immaginato. Molto dipende dalle esatte proporzioni. Il materiale da Montreal è arrivato, ma ho dovuto richiedere bilanze più precise e una lampada ad acetilene. Al villaggio cominciano a diventare curiosi. Vorrei che l'ufficio dei pacchi espressi non fosse nell'empolio di Stingwich. Ho tentato vari dosaggi sui passeri che bevono e si bagnano nella pozzanghela davanti alla caverna quando non è ghiacciata. A volte muoiono, a volte volano via. È evidente che ho trascurato un passaggio importante. Immagino che Rosa e il suo bellimbusto stiano approfittando al massimo della mia assenza, ma posso permettermelo. Non c'è dubbio che alla fine avrò successo. 11 febbraio. C'ero fatta. Ho versato la nuova mistura nella polla e il primo uccellino che l'ha bevuta è caduto come morto. Un attimo dopo l'ho preso e ho visto che era diventato un pezzo di pietra perfetto fino all'ultima piuma e alle zampette. Da quando si era chinato a bere non un muscolo ha cambiato posizione. Per cui deve essere morto appena una goccia della mia sostanza ha raggiunto lo stomaco. Non mi aspettavo che la pietrificazione avvenisse così presto, ma un passero non è la cavia ideale per un prodotto che deve funzionare su un animale più grande. Devo provarlo su una creatura di maggiori dimensioni, perché quando la darò ai porci la quantità deve essere giusta. Penso che il cane di Rose, Rex, andrà benissimo. Lo porterò qui la prossima volta e dirò che l'ha ucciso un lupo. Lei è molto affezionata. Non mi dispiacerà farle versare qualche lacrimuccia prima della resa dei conti. Devo stare attento a nascondere questo diario. A volte Rose fruga negli angoli più impensati. 15 febbraio. Mi sento meglio. Ho fatto l'esperimento su Rex e ha funzionato come un incantesimo, il tutto raddoppiando la dose. Ho versato la roba nella polla e l'ho fatto bere. Mi è sembrato che si rendesse conto che qualcosa in lui non andava perché era inghiato e gli si è rizzato il pelo. Ma prima che facesse in tempo a girare la testa, era diventato un blocco di pietra. La soluzione doveva essere più forte e per un essere umano dovrà essere più forte ancora. Credo di essere arrivato al momento buono. Sono pronto per regolare i conti con quella carogna di Wehler. La soluzione dovrebbe essere in sapore, ma per evitare sorprese la allungherò col vino nuovo che sto facendo a casa. Vorrei essere sicuro che non abbia sapore perché così potrei darla a Rose nell'acqua senza tentare di costringerla a bere vino. Li sistemerò separatamente. Wehler qui, alla caverna, e Rose in casa. Ho messo a punto una soluzione più forte e ho eliminato dall'imboccatura della caverna tutti gli oggetti strani. Rose ha piagnucolato come una bambina quando le ho detto che un lupo aveva ammazzato Rex e Wehler si è fatto in quattro per mostrarle la sua simpatia. Primo marzo. Iagliei! Lode al signore Zattogua. Finalmente ho avuto quel figlio del demonio. Gli ho detto che avevo scoperto un costone di pietra tenera e calcarea proprio da queste parti e lui mi è trotterellato dietro come il maledetto bastardo che è. Tenevo la bevanda allungata col vino in una bottiglia che portavo in tasca e quando siamo arrivati è stato ben lieto di bere un sorso. L'ha buttato giù senza battere ciglio e mi è caduto davanti prima che potessi contare da uno a tre. Ma ha capito che era la mia vendetta perché l'ho fissato con un'espressione che non avrebbe potuto fraintendere. Mentre si piegava e andava giù ho visto che capiva e in un paio di minuti era diventato un pezzo di pietra. L'ho trascinato nella caverna e ho messo la statua di Rex davanti all'ingresso per spaventare eventuali curiosi. La sagoma del cane col pelo dritto fa il suo effetto. Si avvicina la stagione primaverile di caccia e poi c'è quel maledetto tubercolotico di nome Jackson in una capanna sulla montagna. Va a ficcare il naso dappertutto anche nella neve. Non voglio che il mio laboratorio e il magazzino vengano scoperti. Non ancora. Quando sono tornato a casa ho detto a Rose che Wehler aveva ricevuto un telegramma al villaggio e che era stato costretto a partire d'urgenza. Non so se mi abbia creduto o no ma non importa. Per salvare le apparenze ho impacchettato la roba di Wehler e l'ho portata a valle dicendole che andavo a spedirla. L'ho messa nel pozzo disseccato adiacente alla fattoria abbandonata dei rapeli e ora tocca a Rose. 3 marzo Non riesco a persuaderla a bere del vino. Spero che la soluzione sia insapore in modo da poterla sciogliere nell'acqua. Ho provato con il tè e il caffè ma forma un precipitato e in quel modo non si può usare. Se dovrò allungarla con l'acqua bisogna che tagli la dose e mi affidi a un'azione graduale. A mezzogiorno sono arrivati il signore e la signora Hug e non è stato facile sviare la conversazione dalla partenza di Wehler. La storia dell'improvviso ritorno a New York non deve trapelare perché al villaggio sanno che non è arrivato nessun telegramma e che lui non è partito con l'autobus. Rose si comporta molto stranamente in tutta questa storia. Dovrò trovare il modo di litigare con lei e chiuderla in solaio. La soluzione migliore sarebbe costringerla a bere il vino miracoloso. Se lo facesse davvero tanto di guadagnato. 7 marzo Ho cominciato a lavorarmi. Rose non vuole saperne di bere il vino così l'ho battuta con la frusta e chiusa in solaio. Viva non ne uscirà più. Due volte al giorno le passo un piatto di pane salato e carne salata oltre a un secchio d'acqua con un po' della mia pozione. Il cibo dovrebbe farla bere parecchio e l'effetto non può tardare. Non mi piace il modo in cui sbraita sulla sorte di Wehler appena mi avvicino alla porta. A parte questo se ne sta nel più completo silenzio. 9 marzo La lentezza con cui la soluzione fa effetto su Rose è maledettamente strana. Dovrò prepararne una dose più forte e comunque ho l'impressione che non la assaggi nemmeno nonostante il sale che le metto nel cibo. Beh ci sono altri modi per disfarsi di lei. È che mi piacerebbe realizzare la mia idea delle statue. Stamattina sono andato alla caverna e lì è tutto in ordine. A volte sento i passi di Rose attraverso il soffitto e mi sembrano sempre più strascicati. La roba funziona certamente ma è troppo lenta e non è abbastanza forte. D'ora in poi aumenterò drasticamente la dose. 11 marzo. È proprio strano. Lei è ancora viva e si muove. Martedì notte l'ho sentita trafficare con una finestra. Così sono andato di sopra e le ho dato una bella battuta. Rose più incupita che terrorizzata e ha gli occhi gonfi ma da quell'altezza non può sperare di calarsi in cortile e del resto non c'è un sol posto dove potrebbe andare. Durante la notte ho fatto brutti sogni perché i suoi passi strascicati al piano di sopra mi danno ai nervi. A volte ho l'impressione che traffichi con la serratura della porta. 15 marzo. È ancora viva nonostante le dosi sempre più massizze. c'è un mistero in questa faccenda. Ormai si limita a strisciare. Non la sento camminare molto spesso. Il rumore che fa quando si trascina sul pavimento è orribile. Inoltre sbatte le finestre e traffica con la porta. Dovrò ammazzarla frustate se continua così. Ho una forte sonnolenza. Mi chiedo se Rod abbia capito la cosa deve difendersi ma dovrà pur bere la mia roba. Questa sonnolenza è anormale. Credo che la tensione mi stia giocando un tiro. Voglio dormire. A questo punto la grafia già contorta si trasforma in una serie di scarabocchi e quindi c'è del posto a un'altra mano più ferma ed evidentemente femminile in cui modo di scrivere indica una forte tensione emotiva. 16 marzo le 4 del mattino. Note aggiunte da Rossi Morris in punto di morte. Prego di informare mio padre, Osborne e Chandler, Route 2, Montaintop, New York. Ho appena letto quello che il maledetto ha scritto su queste pagine. Ero sicura che avesse ucciso Arthur Wehler ma non sapevo come. Poi ho visto questo orribile diario. Ora so a cosa sono sfuggita. Mi sono resa conto che l'acqua aveva un sapore strano così dopo il primo sorso non l'ho più bevuta. Mi limitavo a buttarla dalla finestra. Quell'unica sorsata mi ha semi paralizzata ma posso ancora farsela. La seta era terribile ma cercavo di mangiare il cibo salato meno possibile e riuscivo a procurarmi un poco d'acqua sistemando vecchie pentole o piatti che erano in solaio sotto il tetto che perde. Ci sono stati due grossi acquazzoni. Mi sono resa conto che cercava di avvelenarmi ma non potevo immaginare che tipo di veleno usasse. Quello che ha scritto sul nostro conto è una bugia. Non siamo mai stati felici e penso di averlo sposato solo per effetto di uno degli incantesimi che Dan sapeva scagliare sul prossimo. Credo che abbia influenzato sia mio padre che me perché tutti lo odiavano e lo temevano sospettandolo di oscuri patti col diavolo. Una volta mio padre lo chiamò figlio di Satana e penso che avesse ragione. Nessuno saprà mai quello che ho dovuto sopportare come sua moglie. Non era semplice crudeltà anche se Dio sa come fosse cattivo e avesse l'abitudine di battermi con una frusta di cuoio. C'era dell'altro, cose che in tempi come questi nessuno vorrà credere. Era un mostro e praticava ogni sorta di cerimonia infernali secondo le abitudini della sua famiglia materna. Cercava di obbligarmi ad aiutarlo nei rituali. Non oso riferire di cosa si trattava. Io mi rifiutavo e lui mi batteva. Sarebbe un sacrilegio anche il solo ripetere quello che pretendeva di farmi fare. Dirò comunque che già allora era un assassino perché so chi sacrificò una notte sulla montagna del tuono. Era veramente il figlio di Satana. Quattro volte ho tentato di scappare ma mi ha sempre ripresa e battuta. Inoltre avevo uno speciale potere sulla mia mente e quella di mio padre. Per quanto riguarda Arthur Wehler non c'è nulla di cui debba vergognarmi. Ci siamo innamorati ma in modo dignitoso ed egli è stato il primo uomo a trattarmi con gentilezza dopo che ho lasciato la casa di mio padre. Era sua intenzione liberarmi dalle grinfie di quel mostro. Arthur ha parlato parecchie volte con mio padre ed era deciso a permettermi di fuggire all'ovest. Dopo il divorzio ci saremmo sposati. Fin da quando quel brutto mi ha chiuso in solaio. Mi sono proposta di uscirne e ucciderlo. Durante la notte tenevo sempre il veleno con me nel caso riuscissi a fuggire e a somministrarglielo in qualche modo. In un primo momento si svegliava non appena toccavo la serratura della porta o tentavo le finestre. Ma in seguito la stanchezza lo ha sopraffatto e ha cominciato a dormire più profondamente. Lo sentivo russare e perciò sapevo quando era addormentato. Stanotte ha preso sonno così in fretta che sono riuscita a forzare la serratura senza svegliarlo. È stato difficile scendere le scale con le mie gambe semi paralizzate ma ce l'ho fatta. L'ho trovato con la lampada accesa addormentato sul tavolo dove fino a poco prima aveva scritto il diario. In un angolo c'era la lunga frusta di cuoio con cui mi aveva battuta tante volte. Ho usata per legarlo alla sedia in modo che non potesse muovere un muscolo. Gli ho stretto il collo come al guinzaglio in modo da potergli versare in gola quello che avessi voluto e senza resistenza da parte sua. Si è svegliato quando avevo quasi finito e immagino che abbia capito di essere spacciato. Ha gridato cose orribili e ha tentato di intonare una delle sue formule magiche ma l'ho imbavagliato con uno strofinaccio per i piatti che ho preso dall'acquaio. Poi ho visto il diario e mi sono messa a leggerlo. Lo shock è stato terribile e sono stata sul punto di svenire quattro o cinque volte. La mia mente non era pronta per cose del genere ma dopo aver finito ho parlato con quel demonio per due o tre ore buone. Gli ho detto quello che avrei voluto dirgli da anni quando ero la sua schiava e altre cose che riguardavano il suo spaventoso diario. Quando ho finito era quasi viola e in delirio. Allora ho preso un imbuto dalla credenza e dopo avergli tolto il bavaglio gliel'ho cacciato in gola. Sapeva quello che stavo per fare ma non poteva difendersi. Avevo portato con me il secchio d'acqua avvelenata e senza batter ciglio ne ho versato una buona metà nell'imbuto. Doveva essere una dose molto forte perché immediatamente ho visto quel brutto irrigidirsi e assumere un color grigio opaco come la pietra. Nel giro di dieci minuti era diventato un blocco senza vita. Non potevo sopportare l'idea di toccarlo ma quando ho estratto l'imbuto dalla bocca ha tintinnato orribilmente. Mi sarebbe piaciuto dare a quel figlio del demonio una morte violenta e dolorosa ma certo aveva avuto la più appropriata. Non c'è altro da dire. Sono semi paralizzata e dopo l'assassinio di Arthur non ho più motivo di vivere. Completerò l'opera bevendo il resto del veleno ma prima sistemerò il diario bene in vista. Il mio unico desiderio è di essere sepolta accanto alla statua che un tempo fu di Arthur. Ma bisogna trovarla nella caverna dove quel demonio l'ha lasciata. Il povero e fedele Rex riposerà ai nostri piedi. Non mi importa affatto di ciò che sarà del mostro di pietra legato alla sedia.